La prima notte all'interno della casa del GF Vipa ha già portato interessanti aneddoti sui quali soffermarsi. Protagonisti del primo flirt, anche se poi ritrattato dando la colpa all'alcol, Giulia Salemi e Francesco Monte. . Pare infatti che Giulia fosse innamorata di Francesco ai tempi del suo trono a Uedì. Glielo ha rivelato, in presenza di Silvia provvedi che si è divertita a cercare di scucire alla Salemi qualche confidenza in più. Come avrà reagito Francesco? GF Vip, Salemi si dichiara a Monte.E' successo durante la prima notte di permanenza nella casa del GF Vip. Giulia Salemi, balzata agli onori delle cronache per aver sfilato, tre anni fa, sul red carpet con un vestito che lasciava davvero poco all'immaginazione, ha fatto una dichiarazione a Monte. Gli ha detto che quando lui faceva il tronista, e lei aveva solo 18 anni, era innamorata di lui. . Al punto di aver scritto su FB dei commenti di felicità quando ha saputo della fine della storia tra lui e Teresana. Cos'è successo tra Giulia e Francesco.Giulia, concorrente di questa edizione del GF Vip, nella notte ha bevuto qualche bicchiere di prosecco di troppo. . Dopodiché ha preso in disparte Francesco Montè e gli ha dichiarato di essere stata follemente innamorata di lui. Gli ha domandato se pensa ancora a Cecilia Rodríguez. .